Leoni da Riva, il figlio di nessuno, la Belva. La missione era troppo rischiosa. Avresti dovuto lasciarmi lì. Mi è stato lui da andarsene. Però è stato scontroso. Strane. Ci sarà fatto molti nemici in passato. Dove sta mia figlia? L'ho visto. Io non so cosa provi. Non vedi l'ora di buttarti nel vuoto. Lo suur morirà. No, 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 no! No, 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 no! La sua morirà lì. Almeno a nostra figlia sarà salva. Grazie a tutti.